ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video per quanto riguarda acquisti fatti da kiko e si qui c'è una borsetta che sta esplodendo perché perché loro hanno fatto una collezione che si chiama sicilia notes ovviamente io essendo siciliana posso non prendere qualcosa di questa collezione ebbene sì ho preso alcune cose io all'inizio avevo preso tre prodotti tra cui uno due e tre tre prodotti che sono questi ma ovviamente con lo sconto ed uno sconto abbastanza forte perché c'era il 50 per cento più altri 25 per cento e quindi ho voluto prendere tutto il resto allora vediamo cosa ho preso nella prima parte ho preso il toner quindi un tonico per quanto riguarda allora parliamo del packaging bellissimo mi piace tantissimo il fatto di far vedere queste arance perché noi siamo veramente proprio il mio paese chiamato per quanto riguarda le arance perché noi le coltiviamo e siamo specializzati in questo infatti la sicilia comprate le arance siciliane cioè ve lo voglio dire se siete a parma comprate le arance da mio cognato ha un camion rosso con i suoi figli ha un camion rosso con i suoi figli vende le arance c'è altri tipi di frutta anche cose siciliane tipo limone eccetera eccetera quindi sponsorizziamoci no veramente ve lo sto dicendo veramente cioè comprate le arance siciliane perché sono quelle originali quindi comprate allora la prima cosa che ho preso è il toner allora ha una profumazione pazzesca io ovviamente non so come sono questi prodotti o l'ho provato lì al negozio mi sono piaciuto e l'ho acquistato il toner proprio ha una profumazione che vi devo dire a me è piaciuto tantissimo ne volevo prendere un altro ma non ci sono riuscite quindi mi accontento solo di questo io non vedo l'ora di utilizzarlo perché solo l'odore mi piace c'è scritto che è un tonico viso energizzante e illuminante quindi lo proviamo e vi farò sapere questo a 150 ml di prodotto la cosa che mi sono innamorata infatti ne ho preso altre due quindi ce l'ho conservate e la crema questo è il packaging della confezione per quanto riguarda la crema di questa ne ho preso un altro perché mi è piaciuta tantissimo proprio mi è rimasta la mano veramente molto molto morbida io avendo una pelle secca questa crema è ottima e questo è una energizzante face moisturizer quindi è sempre la stessa cosa è una crema crema viso idratante ed energizzante grazie all'estratto di mandarino e di camu camu ricco di vitamina c e concentrato di energie è un booster un booster di luminosità quindi è adatto assolutamente alla mia pelle e poi mi piace tantissimo la consistenza di questa crema mamma mia ha un odore pazzesco io già due volte l'ho utilizzata e mi è piaciuta quindi essendo che questa qui l'avevo già provata ne ho prese altre due e le ho conservate perché sinceramente in base anche al prezzo per cui l'ho prese ovvio che le prendevo altre due queste le avevo trovate io volevo anche il tonico ma non c'era poi l'altra cosa che avevo preso è un blush ovviamente in una collezione per quanto riguarda kiko vuoi non prendere un blush l'illuminante non l'avevo trovato ma poi l'ho trovato con lo sconto e vai e ho preso lo 03 che si chiama panarea move questo è il packaging per quanto riguarda la scatolina ed è lo 03 come vi ho detto si trova in questa velina e questo è il packaging del blush cioè è bellissimo cioè scusatemi ma è bellissimo e vi faccio vedere ovviamente ha lo specchietto e questo è il colore ovviamente è un malva ovvio che era un malva cioè avete dubbi se posso prendere un blush non prendo sicuramente un malva ovviamente ho preso questo mi piace tantissimo l'avevo già swatchato allora è un colore stupendo e mi piace come tutti i blush della della kiko è un malva che dà anche sul biscotto un colore molto molto particolare ed è molto molto bello io l'avevo già swatchato lì mi è piaciuto e quindi l'ho preso e questi sono i tre prodotti che avevo preso proprio all'inizio gli altri prodotti che ho preso scontati sono questo che è un cleanser e vi dico che cos'è questo un detergente viso sempre estratto di mandorina e vitamina grazie alle particelle naturali di limone e mandorla deterge e sfoglia delicatamente la pelle quindi è un esfoliante viso è un detergente per togliere il makeup per quello che volete voi e lo voglio provare ovviamente io ho preso tutta la linea di questa qui della sicilia notes proprio perché ovviamente per la sicilia e però perché diciamo i prodotti mi sono piaciuti ho visto delle recensioni nel frattempo che aspettavo questi sconti e quindi ne valsa la pena questo ha 75 ml di prodotto l'altro che ho preso è un primer questo è un primer vediamo è un siero viso illuminante antiossidante ideale da utilizzare come base trucco dono un immediato effetto luce minimizzando l'imperfezione segni di stanchezza è mio ed è questo il packaging è fantastico veramente molto molto particolare è un tipo di altra profumeria io queste queste boccette così le ho viste nelle profumerie ed è molto carina anche come come dosatore tutto quindi lo proveremo e anche di questo vi farò sapere poi andiamo a quattro prodotti che ho preso proprio scontati al massimo tra cui le due palettine queste sono le due palettine occhi che ovviamente non sboccerò perché state vedendo io ho sbocciato soltanto il blush perché già l'avevo utilizzato non sboccerò niente perché non lo so se li terrò io o li darò qualcuno quindi ve li faccio soltanto vedere allora ho preso la 01 wall of templates mi avete capito voi o no che questa pagnotta c'è una cosa enorme 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 bellissimo il packaging è stupendo ha un enorme specchio e questi sono i prodotti e sono degli ombretti molto molto particolari sinceramente all'inizio non l'ho voluta prendere perché ho tantissime palettine e sinceramente i colori quando sono così vicini mi viene anche un po difficile però ovviamente scontata è impossibile non acquistarlo quindi l'ho voluta prendere una è questa e l'altra è la 02 sicilian burque burque o burque la 02 ed è un'altra pagnotta bellissimo il packaging ed ha questi colori qua ed è molto molto bella devo dire che queste palettine sono molto molto belle anche il range di colore è molto vario quindi si può anche sbizzarrire per quanto riguarda un make up devo dire che sono tentata di tenerne una ma non lo so vi farò sapere in futuro voi tenete sempre d'occhio il mio canale perché ci saranno qualche sorpresa che capiterà così senza che nessuno se ne accorge gli ultimi due prodotti sono due illuminanti ho preso i due illuminanti che c'erano nella collezione mi sono piaciute tutte e due quindi l'ho voluti prendere e ho preso lo 01 gold pantelleria di questo l'avevo visto già swatchato e mi è piaciuto come avete visto nel blush il packaging era sul verde invece questo dell'illuminante il packaging è sull'arancio proprio ricordando l'arancia ed è molto molto bello anche questo e il colore è questo qua devo dire che mi piace tantissimo sia il disegno che la formulazione del colore tutto la combo diciamo molto 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 bello mi piace tantissimo questa combo di colore e l'altro sempre velocemente 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 andiamo a vedere l'altro perché devo uscire quindi devo fare veloce ho preso lo 02 copper lava ed è questo packaging uguale ma il colore è questo ditemi se non è un bellissimo bellissimo colore cioè è stupendo l'illuminante non lo so se tenerli oppure no ma credo che li terrò l'illuminante io sono pazza di illuminanti della Kiko perché sinceramente sono i migliori in assoluto perlomeno per quelli che provo io mi piacciono tantissimo e quindi li ho voluti tenere niente che dirvi ragazzi ditemi cosa ne pensate di questa collezione se l'avete presa o non l'avete presa volevate prendere qualche cosa io li utilizzerò tutti in combo perché ho preso sia il tonico sia la crema e quindi voglio fare una full face vediamo se ci riesco con i prodotti della Kiko e niente che dirvi a me sono piaciuti infatti come vi ho detto la crema ne ho presa tre confezioni è stupenda l'odore e tutto mi strapiace tantissimo e quindi l'ho voluta prendere ditemi ovviamente cosa ne pensate vi aspetto in tantissimi giù nei commenti e niente che dirvi ragazze ditemi se ragazze e ragazzi ditemi se il mio video vi è piaciuto e ovviamente scrivetemi se volete un video con questi prodotti se vi è piaciuto qualcosa in particolare e volete che io vi faccia una recensione e tutto io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao